Buon sangue non mente, un proverbio che nel caso di Larissa Iapichino sembra essere più che mai veritiero. Figlia delle due volte campionessa mondiale Fiona May e dell'ex primatista dell'asta Gianni Iapichino, Larissa si è rapidamente imposta sulla scena internazionale dimostrando tutta la sua carica esplosiva, sia in pista che in pedana. Un talento coltivato salto dopo salto in un ideale passaggio di testimone con la madre che l'ha vista nel 2021 eguagliare il suo primato e soltanto qualche mese fa battere il suo record agli europei indoor di Istanbul. La miglior misura italiana di sempre, un salto da favola di 6,97 m per un argento che ha portato l'Italia sul podio continentale. Altro che figlia d'arte, Larissa ha tutti i meriti di questa medaglia vinta tra i signores perché in attesa dei prossimi mondiali all'aperto e delle Olimpiadi di Parigi anche lei è diventata grande, anzi grandissima.